e ciao a tutti eccoci in questo nuovo video oggi siamo qua in questo nuovo video per andare aprire questa bustina qua è sempre una bustina speciale un'altra che come avete visto l'ultimo video ho trovato un'altra questa l'alziamo un po ecco ho trovato un'altra di di tessere quelle speciali carte speciali quella è vinto una bustina e quindi abbiamo qua di nuovo una bustina che andremo ad aprire proprio adesso insieme al nostro box che è qua e quindi ha una due tre quattro mi sta volando e cinque bustine questo lo mettiamo qua da parte ci vediamo nella prossima inquadratura ok eccoci nella nuova inquadratura direi che possiamo iniziare a prendere questi cinque pacchetti e poi per ultimo il pacchetto speciale quindi iniziamo subito ad aprire speriamo di trovare belle cose in questo video non credo mai che troverò un'altra bustina un'altra carta hai vinto però noi ci proviamo vediamo un po abbiamo con prima carta Rugani della Juventus Cipsa del Benevento Pazzini dell'Ellas Verona ok abbiamo trovato la carta che sfortuna poi tre giocatori del Frosinone abbiamo trovato il Sassuolo quindi iniziamo già con una squadra bene direi vediamo con il secondo pacchetto eccolo qui aperto vediamo un po' che abbiamo abbiamo Meret portiere della Spal abbiamo Badel della Fiorentina Tuminiello del Crotone si Crotone la carta che sfortuna abbiamo un'altra squadra ovvero la Provercelli mettiamola qua e poi abbiamo una carta non è speciale però è carta allenatore quindi direi comunque sembra abbastanza è comunque rara da trovare come vedete la mettiamo dall'altra parte proviamo con il terzo pacchetto vediamo un po' mettiamo da parte troviamo Chessi del Milan Chiriches del Napoli Kolarov della Roma è arrivato quest'anno la carta che sfortuna beh stiamo trovando tante squadre oggi tre pacchetti tre squadre il Foggia oh abbiamo una carta speciale poker d'attacco belotti liaic niang e Iago Falc un bell'attacco direi quindi un carta speciale per noi è rara da trovare pure questa ma direi che procediamo col quarto pacchetto che non è il penultimo perché abbiamo il pacchetto speciale da aprire ok vediamo Silvestre la Sampdoria non gioca mai praticamente non me lo ricordo Mario Rui Edin Dzeko attaccante della Roma la carta che sfortuna abbiamo tre giocatori del Brescia e tre giocatori della Salernitana andiamo con il penultimo pacchetto in questo caso che è il quinto appunto eccolo qui abbiamo la manna portiere del Genoa Aja Pong del Sassolo Caeseto della Lazio la carta che sfortuna diamola qua abbiamo tre giocatori del Ternana e tre giocatori del Palermo bene direi non male in questi cinque pacchetti abbiamo trovato tre squadre direi come avete visto tre squadre vabbè comunque queste quelli che abbiamo trovato e poi abbiamo trovato le altre del Milan e la carta speciale squadra ovvero poker d'attacco del Torino e adesso procediamo con il pacchetto speciale qui vediamo un po' chi troviamo ecco qua la bustina attenzione vedo una coppa bene direi seconda coppa per noi l'altra ho trovato già in un video Team Cup e poi abbiamo un portiere Mattia Perin ok vediamo un attimo questa ci abbiamo quindi la super coppa no la coppa team ovvero la coppa Italia bella direi sempre con questo effetto e poi come la scarta di Amsic abbiamo quella di Mattia Perin in cui c'è la sua carriera fino ad ora bene quindi belle carte oggi direi queste qui e ci vediamo nella prossima inquadratura bene per questo video è tutto quindi abbiamo trovato la super coppa ecco si adesso la super coppa poker d'attacco del Torino è allenatore del Milan bene direi buone come carte queste qua e anche lui quindi spero che vi sia piaciuto questo video iscrivetevi al canale Pol e Lollo ma soprattutto se vi è piaciuto questo nuovo video iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti